quarta giornata sunday cup schema 3 contro magici risultato ancora solo 0 no no ha risultato sull'1 a 0 gol di giovanni ruggiero su punizione sorpreso di scala papoff cerca il colpo di testa lascia scivolare il pallone grande palla ancora in avanti buono lo stoffo di micalo il passaggio per papoff sbagliato poi giovanni ruggiero cerca ancora un passaggio romanelli buono per aliberti che si allarga il tiro a incrociare fa buona guardia entra solo sul pallone in lontananza micalo in scivolata perché vietato sull'uomo adesso riccio ripartono i magici riccio ancora il passaggio per papoff papoff davanti alla porta recuperato perfettamente dal lazzerini guido papoff al centro ancora troppo lunga per riccio lagerino interviene lazzerini poi la lunga ruggiero il tiro di ruggiero ha avuto l'occasione del 2 a 0 sui piedi giovanni ruggiero autore del primo gol del vantaggio purtroppo il pallone è terminato sul fondo dopo il tiro di punta poi riccio lascia scivolare ancora grande sul fondo lazzerini saluti alla mamma di gallo claudio marrone o dici a stefano che lo richiama tra un attimo claudio marrone grazie a liberti vai al passaggio recupera papoff poi una serie di rimpalli infine favoriscono il schema 3 con giovanni ruggiero che rimette in avanti alla san frasso poi ancora claudio marrone il colpo di testa centrale a servire micalo per mettere un po d'ordine micalo stesso sbaglia il passaggio però i suoi guadagnano un fallo laterale si risistemano in campo i giocatori di entrambe le compagini riccio il tiro chiudiamo qui il collegamento chiudiamo